Siamo a un evento 4x4 Il problema principale sarà la polvere Questo qui è il rottore Tesla Se oggi siamo stati invitati a un evento 4x4 Fun Race, così lo chiamano Ci sono tutta una serie di fuoristrada Siamo stati attenti a quelli che sono arrivati Con il mezzo lungo nero Sono veneti Poi un po' d'acqua Attento, sta grave Siamo stati attenti a quelli che sono arrivati a un evento 4x4 Siamo stati attenti a quelli che sono arrivati a un evento 4x4